C'è il problema delle nuove persone che chiedono di accedere al territorio montano anche di provenienza non nazionale e che meriterebbero assolutamente di essere aiutate in questa fase di inserimento nell'attività produttiva montana. E' indubbio che sono persone che spesso non hanno competenze, quindi devono essere adeguatamente sostenute nella formazione, poi devono essere adeguatamente sostenute dando loro del lavoro già nel settore che poi andranno ad occupare. Gradualmente man mano che acquisteranno competenze potranno addirittura essere coinvolte con una percentuale di impresa, quindi dando loro una certa quota nel capitale dell'impresa. E questo avrebbe un grande stimolo nell'interessarli alla loro crescita. E poi finalmente almeno le persone più capaci potrebbero ricevere in gestione un'associazione fondiaria in modo che possano dimostrare la loro capacità acquisita. E questo è una grossa opportunità per il settore alpino perché in questo modo verrebbe accelerato un pochino il processo di riabitazione, perché in questo momento abbiamo veramente tanti villaggi completamente abbandonati. Ci terrei a ribadire ancora l'importanza che il territorio montano, che possiamo definire un manufatto antropico molto ben riuscito, così come lo vediamo ancora nelle parti conservate, deve essere per le generazioni future conservate e quindi dobbiamo renderci conto che per fare delle azioni ben precise e ben studiate in relazione alle diversità territoriali noi abbiamo bisogno di competenze. Quindi una figura di persona competente che comune per comune oppure per gruppi di comune assume la responsabilità della gestione del territorio sarebbe oltremodo importante per garantire quindi le possibilità che le associazioni fondiarie stesse offrono solo se ben dirette e ben gestite.